E' il 175esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del cancro. La chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Il numero fortunato è l'otto, il colore il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 23 giugno del 1993 Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina. Verrà accusata di lesioni volontarie, venendo assolta nel 1997 con l'ordine però di trascorrere 45 giorni in una clinica psichiatrica. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 23 giugno ricordiamo la tennista Francesca Schiavone e il conduttore tv Fabio Volo. La citazione del giorno. Chi dice sempre la verità non ha evidentemente altro da dire. Roberto Gervaso. Dice il saggio. La fame è maestra di molte cose. Il bel paese. A Roma, a due passi da Piazza del Popolo, all'interno del Palazzo Lucernari dei Conti Vaselli, oggi Hotel de Russie, c'è un giardino nascosto ideato dall'architetto Giuseppe Valadier, che è stato da poco riportato agli antichi splendori. Questo meraviglioso giardino segreto terrazzato, con cespugli di rose, aranci, pini e una piccola cascata che scende in treni in fei, rappresenta oggi un esempio unico nella capitale di giardino architettonico urbano ottocentesco. Grazie a tutti.